allora in un workshop sul turismo turismo enogastronomico turismo eco solidale in italia non poteva mancare una voce fondamentale però non lasciatevi entrare in inganno come ho fatto anch'io perché immediatamente quando ho sentito parlare di casino ho detto ma qui come facciamo adesso a raccontare ai nostri telespettatori ai nostri amici che ci seguono sul web che l'italia è famosa anche per e adesso ce lo spiegano i nostri meravigliosi ospiti intanto ti chiedo di presentare naturalmente il segmento che rappresenti insieme al tuo socio sì noi siamo una società di intrattenimento il nome casino casino party siamo sul mercato da circa 12 anni e praticamente realizziamo eventi a tema gioco in generale ma specializzato nel casino dove appunto viene utilizzato come semplice intrattenimento ecco casino party significa veicolare comunque anche qui torniamo al nostro workshop maree di turisti e intrattenerli perché poi naturalmente arrivano i turisti in italia arrivano i visitatori c'è tutta una parte diciamo legata al turismo enogastronomico e alla cultura ma poi naturalmente c'è uno spazio dedicato all'intrattenimento allora voi che cosa proponete sì noi praticamente in uno specifico appunto realizziamo questi questi eventi dove non si gioca denaro quindi giocano tutti gratuitamente gratuitamente però fine a fine diciamo serata si possono vincere dei premi quindi è l'intrattenimento diventa molto aggregante diventa molto coinvolgente perché appunto non c'è l'imbarazzo del denaro e tutto appunto quello che concerne questo tipo di di soluzione e appunto si rischia solo di divertirsi questo è un po la questo è un po' il nostro slogan e questo mi piace molto il rischio è solo quello di divertirsi questo è anche proprio nello spirito della giornata di oggi mi presenti il tuo socio sì come no lui è marco marco barile è responsabile diciamo anche lui del commerciale della della parte diciamo del noleggio perché oltre appunto all'intrattenimento vero e proprio facciamo anche noleggio di altre attrezzature sempre nel mondo del gioco o e mi permetto ancora un'ultima cosa molti sono abituati a dire vabbè io vado al casino in questo caso è il casino che va da lui o da loro e spiegami ancora meglio perché lo hai già accennato ma spieghiamo verissimo infatti noi siamo proprio il casino dove vuoi tu ovvero possiamo portare qualsiasi tavolo da gioco che sia roulette blackjack il poker e tutti e tutti gli altri dove ci viene richiesto quindi ci è capitato di fare eventi su yacht ci è capitato di fare eventi in ville in baite o in giardino è appunto un format molto simpatico che si abbina a qualsiasi tipo di evento sia privato che aziendale confessiamo abbiamo due soci qui di chi è stata questa idea geniale di portare l'intrattenimento questo tipo di intrattenimento nelle location dove viene sviluppato l'evento di chi è l'idea insomma lo possiamo dire diciamolo va quindi l'idea è tua sì 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 è stata un'idea devo dire che poi all'inizio sembrava proprio appunto un gioco sembrava uno scherzo invece poi si è rivelato una cosa molto molto interessante abbiamo avuto un successo che non ci aspettavamo e devo dire che molto interessante è che comunque due insomma brillanti giovani perché tanto in italia siamo giovani anche nella decina dei 40 mi permetto di dirlo e abbiano avuto questa brillante intuizione quindi onore al merito mi sembra un'idea nuova geniale soprattutto un'idea in questo senso io direi anche solidale perché lo abbiamo detto prima l'unico rischio è quello di divertirsi